Oggi è la festa di San Giovanni Battista. Delle letture di oggi che la Chiesa ci propone mi hanno colpito soprattutto due frasi. La prima, appunto dalla prima lettura del testo di Isaia al capitolo 49, quando si legge ascoltatemi o isole, udite attentamente nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Ecco, ricordiamoci questa locuzione, il Signore dal seno materno mi ha chiamato. E poi ancora nel Vangelo di Luca, quando sempre a proposito di Giovanni Battista, dice l'Evangelista e davvero la mano del Signore era con lui. Credo che sia bellissimo questo sentire come Dio sin dal seno materno era con Giovanni Battista e che la mano di Dio era con Giovanni Battista. E anche dopo, successivamente, alla fine del capitolo 1, dice Luca, il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Cioè, era immerso dello spirito di Dio. Però, mi viene da dire, non solo Giovanni Battista. Perché io ci vedo un grande rischio nella lettura della scelta, della predestinazione, della chiamata, della vocazione come una benedizione che Dio riserva a qualcuno sì e a qualche altro no. Questo Dio che interviene nella storia di Giovanni Battista e non in quella di Pietro. Allora, proprio questa parola di oggi mi porta a dire che fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, il tuo nome, il nome di tutti, Dio, di ciascuno di noi. E che la mano di Dio era sulla testa di Giovanni Battista, ma è anche sulla testa di ciascuno di noi. Come nel canto ebraico Beshem Hashem, gli ebrei, la sera, prima di andare a dormire, cantano dicendo Ve al Roshi Shekinat El. Sicuramente l'avrò detto in maniera sbagliata, ma la traduzione più o meno è questa. E sulla mia testa, la Shekinat, cioè invocano che Dio metta la Shekinat, la sua presenza divina sulla loro testa, questa presenza femminile, la Shekinat di Dio. E allora questa parola di oggi mi porta a, mi dà l'opportunità di fare questa riflessione sulla vocazione, sulla quella che a volte sentiamo dire scelti, predestinati. Non c'è nessun privilegio che Dio attribuisce a qualcuno sì e a qualc'altro no. Quell'essere scelti è semplicemente essere amati da Dio. E Dio ama tutti, senza alcuna distinzione. Allora dobbiamo incominciare a riclassificare e a scompaginare un po' dei paradigmi se vogliamo sentire un Dio vicino, non lontano. Un Dio dentro la storia, non un Dio fuori dalla storia. Un Dio dentro la nostra vita, la vita di ciascuno e non un Dio che osserva, giudica, valuta la vita di ciascuno. Un Dio non più onnipotente, perché dopo la creazione Dio dal trono della giustizia, come dicono i rabbini ebrei, si è seduto su quella della misericordia. E io aggiungo dal trono dell'onnipotenza a quella dell'onniamore. Per cui quello che Dio può fare è soltanto amarci infinitamente. Ed è questa la scelta, è questo il senso che appartiene a ciascuno, a Giovanni Battista, a me e a ciascuno di noi, dell'essere sin dal seno materno chiamati da Dio. E quindi questa chiamata è per tutti, a secondo di come la viviamo, la sentiamo o la cerchiamo anche. Non è una chiamata a essere speciali, perché Dio vorrebbe nel suo sogno tutti nella pace e nell'amore, in quello che è il regno, il regno non come un luogo estraneo alla vita, ma come un luogo della vita di ciascuno di noi. Per cui la chiamata, se qualcuno la conosce per bene, in maniera precisa, come avviene, ce la può venire a spiegare, perché io credo che tra due innamorati, come può essere ciascuno di noi e Dio, è difficile dire chi prende per primo l'iniziativa. A volte può essere sicuramente che ascoltiamo, sentiamo che qualcuno sente questa chiamata di Dio nella propria vita, nella propria storia, è questa chiamata che ha bisogno di una risposta, ma in altre occasioni può essere anche che sia il frutto di un primo passo di chi cerca Dio, cerca l'oltre, cerca quell'acqua che disseta la propria vita e in quell'inquietudine prova a cercare Dio e è di innamorarsene giorno per giorno e quindi è un atto d'amore che è il frutto di questa ricerca che ognuno di noi ha la possibilità di fare per portarsi ad incontrare Dio e quindi è un incontro che si compie a mezza strada, oserei dire, ed è un incontro che si compie tra il sogno mio e il sogno di Dio. Qualcuno mi chiedeva ieri ma come si fa a non sentirsi una marionetta nelle mani di Dio? Dio non ci vuole assolutamente come una marionetta ma vuole che attraverso il discernimento il fuoco della mia creatività incontri quello della creatività di Dio che il mio sogno incontri il sogno di Dio ed in questo incontro che nasce poi la scintilla con la quale realizzare la nostra vita e allora la fede, si dice spesso, è un dono come se Dio poi la facesse a qualcuno, si, e a qualche altro, no. Forse più che dono dovremmo dire, dovremmo incominciare a parlare di abbandono. La fede è un abbandono al mistero, alla meraviglia, al non sapere e questo fidarsi del non sapere perché in questo fidarsi si trova, direbbe Bonheffer, un cambio di paradigma della vita e se noi vogliamo considerare la nostra vita così come era prima senza l'elemento nuovo di un paradigma che è la presenza di Dio nella nostra vita ma è naturale che ci sembra una follia poter parlare di abbandonarsi alla vita, di abbandonarsi a Dio, di avere fiducia nel cammino che ci si apre davanti attraverso le nostre scelte. Allora la fede si è vissuta come abbandono, è una possibilità per tutti e allora diventa anche, come forse il Cardinale Martini direbbe ancora, una scelta col dubbio. Sì, una scelta col dubbio nel senso che non sappiamo fino in fondo cosa esiste nel mistero e cosa esiste nell'oltre e per fortuna non lo sappiamo fino in fondo ma non soltanto per preservarci un pezzo di meraviglia perché non possiamo conoscere la pretesa di conoscere Dio fino in fondo è demoniaca e come avrebbe detto e diceva Master Eckhart molti secoli fa se smetti di cercarlo lo incontri e cosa può significare questo se smetti di cercare Dio lo incontri se non l'incapacità, l'impossibilità di poter definire con esattezza il mistero di Dio e dunque la fede che lo accompagna allora io posso dire che la mia fede è un atto di fiducia al vuoto, alla bellezza perché in quell'atto di abbandono col dubbio posso e sento di essere pieno completo realizzato compiuto amante con tutte le mie fragilità con tutte le mie imperfezioni e allora in questi cambi di paradigma che le letture di oggi mi portano a recuperare alla mente mi viene da aggiungere che dobbiamo cambiare certe percezioni e certe comunicazioni se desideriamo veramente parlare di un Dio che ama e non un Dio che castiga un Dio che giudica un Dio presente adesso nella mia storia personale non un Dio che sarà presente un giorno nel registro dei tribunali del là di là e questo Dio mi consegna la possibilità della forza della grazia dell'eucaristia non perché sono buono bravo e bello perfetto ma perché ne ho bisogno perché non ce la faccio perché ho bisogno di un unguento di una medicina che possa sostenere i miei cammini così come sono con le mie fragilità e le mie schifezze e allora questa opportunità che la parola di oggi ci dà è quella di sostituire a un Dio lontano a un Dio vicino a un Dio per pochi a un Dio per tutti a un Dio del proprio gruppo della propria sette della propria organizzazione del proprio stato a un Dio di tutti i popoli di tutte le nazioni che ha parlato nei secoli nell'eternità in maniera in forme in modi diversi anche attraverso uomini diversi donne diverse appartenenti a fede diversi mi fa piacere leggere l'inizio di un cantico della della chiesa tratto dalla lettera agli ebrei nei tempi antichi Dio aveva parlato ai padri molte volte e in diversi modi per mezzo dei profeti e in questi ultimi modi ci ha parlato attraverso il figlio Dio ha parlato dall'eternità da sempre e continua a parlare adesso anche attraverso la meraviglia della natura di un albero di una foglia anche lì Dio parla e bisogna ascoltarlo proprio stamattina leggevo una preghiera tratta dal libro delle preghiere universale di Giovanni Vannucci di un mistico musulmano in cui diceva voglio gridare il tuo nome nei cieli insieme a Gesù sul monte Sinei vicino a Mosè accanto a Giobbe a Giacobbe piangente e a Mahometto tuo amico voglio gridare il tuo nome nelle lingue degli uomini con le colombe che tubano come è bello immaginare di poter gridare il nome di Dio non soltanto attraverso la preghiera l'invocazione dei santi ma attraverso le colombe che tubano nel canto dell'usignolo nell'invocazione di chi ti ama e ti invoca ecco questa è la possibilità di sentire un Dio presente nella nostra vita un Dio per tutti e non e non per pochi un Dio che sta con noi così come siamo ecco ieri nel Vangelo domenicale il Vangelo di Marco della tempesta sedata ad esempio mi ha colpito più che Gesù che dice agli apostoli non avete fede ma mi ha colpito quando gli apostoli e anche questo è un cambio di paradigma presero sulla barca Gesù così come era il testo del Vangelo dice in quel medesimo giorno venuta la sera disse loro passiamo all'altra riva è congedata la folla lo presero con sé così com'era e poi racconta il testo che ci fu la tempesta e quella tempesta viene sedata e quindi Gesù che dice ma non avete fede io più che soffermarmi su questa parte mi ha colpito quella affermazione mi ha colpito grazie a un commento che ho trovato sulla sull'agenda della fraternità di Romena questo far salire sulla barca Gesù così com'era e ci si affretta poi a dire questo far salire sulla barca Gesù così com'era perché non ci possiamo fare un Gesù alla carte cioè così come vogliamo è naturale se noi ci facciamo un cammino un percorso da pellegrini su un sentiero spirituale scambiando una strada qualunque per un sentiero spirituale certamente gireremo a vuoto ma io più che sentire in quel così com'era l'idea di un'obbedienza e di un mettersi sempre dentro vicoli stretti della vita nella quale soltanto è possibile l'incontro con Gesù e non i larghi orizzonti conquistati anche attraverso la porta stretta ma che danno poi un orizzonte largo un respiro ampio alla vita fatta di gioia di sorrisi di piacere vero io sento che in quel così com'era c'è una grande opportunità per noi tutti ma com'era Gesù in quei giorni immaginiamo che sta in questo lago lago di Galilea 53 km di circonferenza un mare enorme quindi sono fatti che si raccontano che non sono accaduti certamente in un giorno in quel periodo nel capitolo precedente a quello di Marco che abbiamo letto ieri a Messa la tempesta sedata Marco capitolo 4 35 dal versetto 35 in poi in quei giorni gli scrivi cercavano di metterlo in difficoltà perché aveva di sabato operato un miracolo e allora gli scrivi cercavano facevano tennero consiglio dice Marco contro di lui per farlo morire i farisei scusate gli scrivi invece nel capitolo successivo lo ingiuriavano Gesù salì sul monte scelse i dodici e a un certo punto dopo che aveva scelto i dodici a un certo punto i suoi parenti le persone che stavano insieme con lui lo andavano a cercare dicevano è fuori di sé Gesù fuori di sé e lui poi a un certo punto dice ma chi sono i miei parenti sono quelli che ascoltano la mia parola quindi Gesù ecco questo era il Gesù che sale sulla barca un Gesù lacerato dalle difficoltà che sentiva dell'incomprensione non era compresa dai dai discepoli dai parenti gli scrivi cercavano di metterla a morte i farisei lo caluniavano ma così come era salì sulla barca e se Gesù salì sulla barca stanco affaticato un po' probabilmente anche deluso depresso da quelle situazioni che stava vivendo con la fiducia però che la navigazione sarebbe andata bene nonostante la tempesta che si stava scatenando significa che ciascuno di noi può camminare con gioia con bellezza con serenità incontro all'abbraccio con la vita con la meraviglia con Dio nonostante le nostre fragilità le nostre debolezze anzi questi elementi di debolezza e di fragilità quando vengono accolti con mitezza possono essere l'occasione per poter purificare il cuore disinquinare la vita dai nostri attaccamenti e in questo modo attraverso quell'azione di purificazione di disinquinamento incontrare in armonia Gesù per cui le nostre schifezze che ci abitano possono essere come la spazzatura che se si riesce a riciclare in maniera differenziandola bene può essere l'opportunità di riciclare di creare humus fertilità nella nostra vita spezzata proprio attraverso gli scarti quindi non dobbiamo avere paura di camminare anche sulle righe storte perché Gesù così com'era è salito sulla barca navigando verso la vita nella quale ha incontrato la tempesta e l'ha sedata perché aveva fiducia nella vita fiducia in suo padre allora ecco a me fa piacere poter leggere la parola non come un elemento che diventa una cartina di tornasole sulla possibilità che come faccio parte di quel circolo che alla fine si possa salvare ma come un pane che mi nutre nelle difficoltà dell'esistenza per farmi trovare pace e gioia allora questa chiamata che è un incontro d'amore reciproco senza sapere chi per prima comincia questa scelta questa predestinazione sin d'arseno materno è semplicemente l'amore di Dio per tutti questa mano di Dio sulla testa di Giovanni Battista è la stessa mano di Dio che ogni giorno sulla testa di ciascuno opera il miracolo dell'accompagnamento della carezza della tenerezza l'Eucarestia non è il pane per i perfetti ma il viatico il sostegno per chi è caduto per chi è fragile sulla barca della vita nella comunità degli amici dei fedeli dei cercatori dello spirito dei cercatori della gioia c'è posto e spazio anche per gli sciancati anche per me perché Gesù su quella barca è salito così com'era quel giorno sul lago di Galilea e allora significa che anch'io posso salire così come sono con la fiducia e la speranza che la vita opera meraviglie opera miracoli se io glielo consento se nella mia libertà e nella mia creatività mi alleo con la vita per realizzare i sogni miei e quel momento magico dopo i preparativi in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi con solo l'orizzonte come limite ricordati di vivere è un testimone complice invisibile ricordati di vivere ed un sorriso antico come viatico ricordati di vivere ricordati di vivere me lo diceva una fotografia che stava appesa al muro